ben ritrovati a questo importantissimo appuntamento noi oggi siamo a desio per farvi scoprire tutte le incredibili proposte di zappa auto e per raccontarvele c'è tutto lo staff qui a vostra disposizione che tra l'altro vi aspetta per venirle a vedere proprio personalmente allora direi di non perdere altro tempo e di andare a vedere le primissime occasioni un saluto da silvio iniziamo subito con la nostra carrellata andiamo in casa mercedes vi proponiamo questa bellissima classe b 180 a solo 51 mila chilometri la vettura è dotata dei seguenti optional cambio automatico navigatore bluetooth e cerchi in lega ve la offriamo al prezzo di 20.300 euro un ciao a tutti da christian vi presentiamo ora una bellissima audi a 6 in versione avant quindi la station wagon di casa audi un'auto stupenda 3.000 turbodiesel di cilindrata l'anno di immatricolazione il 2015 ha percorso 94 mila chilometri è un'auto dotata di tutti gli optional quindi sensori parcheggio fare lo xeno cruise control con alte multifunzione cambio automatico e addirittura navigatore viene proposta al prezzo di 33 mila 800 euro un saluto anche da alberto vi presento questa splendida smart for you mille 71 cavalli cambio automatico cerchi in lega la vettura un anno 2013 ha percorso solo 45 mila 500 chilometri ed è proposta a 7 mila 900 euro un saluto da massimiliano presento una bellissima compatta di casa mercedes un classe b 1.500 diesel con 90 mila chilometri dotato di sensori di parcheggio specchi esterni elettrici cerchi in lega da 18 cambio automatico cruise control la proponiamo al prezzo di 15 mila e 300 euro buongiorno a tutti piacere gerardo passiamo in casa fiat e vi presentiamo questa fantastica 500 versione lounge completa di ogni comfort dai fendi nebbia sensori posteriori cerchi lega 17 tetto apribile volante multifunzione bluetooth viva voce completa anche di navigatore tom tom con soli 37 mila chilometri il prezzo di 10.500 euro andiamo in casa jaguar vi presentiamo questo bellissimo suv è un f pace 3000 turbo diesel di 301 cavalli la vettura è veramente nuova a solo 43 mila chilometri e super accessoriata cerchi in lega cambio automatico pelle navigatore ve la presentiamo al prezzo di 51 mila 600 euro con l'onore di presentarvi questa mercedes benz e 350 71 mila chilometri anno 2014 la vettura assolutamente full optional completa di interno in pelle navigatore cambio automatico è proposta 29 mila 900 euro vi presento questo fantastico x5 2000 di cilindrata 218 cavalli lato vettura 2015 ha percorso solo 72 mila chilometri se non sensori anteriori e posteriori fendi nebbia cerchi lega interni in pelle cambio automatico 4 per 4 bluetooth e cruise control ve la proponiamo un fantastico prezzo di 36 mila 900 euro passiamo in casa alfa romeo presenta una bellissima giulietta blu elettrico con gli interni in pelle e tessuto a soli 54 mila chilometri è un 1.6 diesel 105 cavalli ha sensori di parcheggio specchi elettrici viva voce bluetooth volanti multifunzione ai cerchi in lega e la proponiamo a 15 mila euro proseguiamo la carrellata presentandovi una bellissima mercedes gl a 180 la vettura è stata immatricolata nel 2015 è una 1.5 turbo diesel ed è dotata di molti molti option come ad esempio viva voce bluetooth volante multifunzione navigatore cambio automatico viene proposta al prezzo di 22 mila e 800 euro siamo in casa mini questa splendida countryman 1.6 tdi 112 cavalli dell'anno 2014 la vettura ha percorso solamente 61 mila chilometri ed è dotata del cambio automatico è proposta 17 mila euro passiamo in casa peggio vi presento questo 308 mille 6 120 cavalli del 2015 l'autovettura ha percorso solo 77 mila chilometri ed è come sempre completa di ogni comfort le sensori anteriori posteriori se non pendinebbia cerchi lega interni in pelle tessuto volante multifunzione cambio automatico ve la proponiamo un fantastico prezzo i 14 mila e 500 euro presento una bellissima 4 avanti con allestimento s line con soli 76 mila chilometri e un 2000 di cilindrata con 150 cavalli è dotata di fare lo seno sensori di parcheggio cerchi da 18 vernice metallizzata fendinebbia viva voce bluetooth navigatore la propongo al prezzo di 21 mila e 600 euro parliamo ora di una stupenda audi a5 in versione sportback l'auto è stata immatricolata nel 2015 ha percorso 81 mila chilometri e di cilindrata un 2000 turbodiesel con ben 150 cavalli accessori ne ha tantissimi come ad esempio anche il navigatore il cambio automatico e fare lo seno bluetooth volante multifunzione fare lo seno e viene proposta un prezzo di 24 mila e 600 euro vi presento questa mercedes classe c 250 l'autovettura è un 2002 di cilindrata 204 cavalli nel 2013 ha percorso 108 mila chilometri è un berlino a quattro porte fantastico completa di xenon cambio automatico navigatore volante multifunzione bluetooth cruise control cerchi lega la proponiamo un prezzo di 18 mila e 900 euro continuiamo la carrellata con questo bmw 316 2 mila di cilindrata 143 cavalli l'autovettura dal 2014 ha percorso solo 77 mila chilometri completa di cambio automatico bluetooth volante multifunzioni sensori parcheggio cerchi lega climatizzatore la proponiamo un fantastico prezzo di 7 mila e 900 euro vi presento ora una magnifica audi a6 all road in versione avant un'auto 3000 di cilindrata con ben 313 cavalli è del 2014 e ha percorso 72 mila chilometri tantissimi sono gli accessori come fare lo xeno interno in pelle il navigatore il cambio automatico volante multifunzione e addirittura le quattro ruote motrici quest'auto viene proposta un prezzo di 39 mila e 500 euro rimaniamo in casa audi vi proponiamo questa fantastica a3 2150 cavalli l'autovettura dal 2014 ha percorso solo 55 mila chilometri completa di xenon tetto apribile cerchi lega sensori posteriori volante multifunzione bluetooth navigatore cruise control interni in pelle tessuto ve la proponiamo un prezzo di 18 mila e 700 euro siamo in casa bmw con questa splendida a cabrio un 420 2.000 tdi 184 cavalli con 54 mila chilometri immatricolata nell'anno 2015 la vettura assolutamente full optional quindi completa all'interno in pelle navigatore cambio automatico e fari lo xeno è proposta a 35 mila 800 euro torniamo in casa mercedes vi presentiamo questa classe a 200 turbodiesel con 91 mila chilometri e del 2014 la vettura è molto bella accessoriati interna in pelle navigatore cerchi in lega ve la proponiamo al prezzo di 19 e mezzo parliamo adesso di una bmw x3 cilindrata 2000 turbodiesel l'anno di immatricolazione il 2015 ha percorso 88 mila chilometri una vettura con tanti cavalli ben 190 dotata di molti option come il navigatore il cambio automatico e anche gli interni in pelle viene proposta un prezzo di 28 mila 500 euro vi presento questo peggio 308 station wagon l'autovettura del 2015 ha percorso 66 mila chilometri cilindrata 1.6116 cavalli l'autovettura completa come solito di ogni comfort dal navigatore bluetooth cruise counter volante multifunzione cerchi in lega sensori anteriori posteriori e xenon ve la proponiamo un prezzo di 14 mila 700 euro proseguiamo in casa mercedes con questa gelle k220 turbodiesel con solo 29 mila chilometri la macchina è molto bella è accessoriata di interno in pelle cambio automatico cerchi in lega volanti multifunzionale bluetooth ve lo offriamo al prezzo di 21 e 9 siamo in in casa ford con questo kuga 2.000 tdi 150 cavalli 4 volate motrici la vettura del 2015 ha percorso 94 mila chilometri è dotata di navigatore cambio automatico è proposta a 15 mila 900 euro passiamo in casa volkswagen vi presentiamo questa golf 2.150 cavalli l'autovettura del 2013 ha percorso solo 84 mila chilometri completa di ogni comfort cambio automatico navigatore bluetooth volante multifunzione cruise control cerchi in lega ve la proponiamo un prezzo di 15 mila e 400 euro parliamo ora di una bellissima bmw serie 3 berlina auto cilindrata 2000 turbodiesel immatricolata nel 2016 ha percorso pensate solo 27 mila chilometri 190 cavalli di potenza molto accessoriata con navigatore il cambio automatico prezzo di 27 mila 700 euro e andiamo in casa opel vi presentiamo questa bellissima opel astra station wagon a solo 70 mila chilometri la macchina del 2014 e accessoriata di navigatore cerchi in lega bluetooth volante multifunzionale ve la presentiamo al prezzo di 9.500 euro vi presento questo volvo xc 90 lato vettura è un 2 4 diesel 200 cavalli immatricolata nel 2014 ha percorso solo 49 mila chilometri completa di sette posti interni in pelle marroni cambio automatico sensori di parcheggio vernice metallizzata navigatore bluetooth e cruise control ve la proponiamo un prezzo di 27 mila e 700 euro parliamo ora di una bellissima nissan x trail il fuoristrada di casa nissan è di cindrata 1.600 turbodiesel anno di immatricolazione 2015 ha percorso 84 mila chilometri dotata di navigatore la proponiamo al prezzo di 20 mila e 700 euro vi presento questa splendida volvo v 60 2.000 tdi 150 cavalli la vettura immatricolata nel 2016 ha percorso solamente 61 mila chilometri è dotata di navigatore e cambio automatico oltre il sistema viva voce bluetooth ed è proposta a 20 mila 800 euro ricordo ai nostri telespettatori che siamo anche rappresentanti del marchio alfa le campagne promozionali del mese di luglio per quanto riguarda stelvio e giulia sono rimaste invariate ci sono delle grosse novità su giulietta e mito su macchine in pronta consegna siamo in grado di dare gli optional omaggio la grossa novità è anche per quanto riguarda i pagamenti l'introduzione di un finanziamento a tasso zero per questo vi aspettiamo numerosi ricordiamo che è qua da noi da zappa potrete trovare ogni offerta chilometro zero dall'alfa romeo come giulietta mito giulia dalla fiat come 500 x 500 l 500 normale 500 sport gruppo lancia come y concludiamo quindi con un caloroso saluto da tutto lo staff della zappa auto di desio ci troviamo in via per binzago 73 un saluto di nuovo da riccardo da massimiliano da gerardo e silvio vi aspettiamo